Ciao a tutti, sono Riccardino Di Giovanni. E niente, faccio questo video, innanzitutto chiedo scusa per la riuscita, per come riuscirà questo video, perché in questo momento non ci sono luci adatte per fare il video, però lo faccio lo stesso, perché volevo spiegare una cosa fondamentale. Allora, intanto ho la maglietta che sopra c'è scritto, vedete, il lavoro, mi piace, mi affascina, potrei stare ore e ore a guardarlo, ecco, questo per dimostrarvi che sono io. Faccio questo video, dicevo, perché volevo spiegarvi della commedia scritta da me, che è questa, che è fantastica giornata, è una commedia tratta da una storia vera che è successa veramente a me, regia Kevin Dominici. Volevo spiegarvi un momentino come nasce e che cosa c'è dietro questa commedia in realtà. Allora, intanto partiamo col fatto che ho scritto questa commedia perché in pratica anni fa, diciamo cinque anni fa, che è successo? Sono stato accusato ingiustamente di presunti atti terroristici. C'è un signore che in pratica mi ha fatto quattro o cinque denunce, ora non ricordo, per presunti atti terroristici. Lui mi accusa che gli ho bucato le gomme di due macchine, che gli ho messo acido nel suo negozio, che gli ho messo una bomba carta dentro il tubo di scappamento della sua macchina e altre cose che nemmeno mi ricordo perché nemmeno l'ho fatta queste cose. Allora, con questo, che voglio dire, questo signore in pratica mi ha fatto queste denunce che tra l'altro sono, poi sono anche venuti i poliziotti a farmi una perquisizione per controllare se io avevo le armi e la polvere da sparo dentro casa mia, cosa che non hanno trovato, poi io che fesce? Sono andato dall'avvocato mio e guarda caso, io mi sono ricordato che proprio in quelle date dove lui mi accusa di questi atti presunti atti terroristici, stavo ricoverato all'ospedale di Tivoli, dove sono andato all'ospedale di Tivoli e mi sono fatto rilasciare questo. Questo ve lo leggo io che cos'è? È la lettera di dimissione per il medico curante. In pratica sono stato operato di fistola perianale e quindi il nome tecnico è fistulectomia elastomidioresi. È complicatissimo, però comunque mi hanno operato a sedere alle fistole. Me ne hanno levate quattro di fistole. Quindi tutto il periodo successivo alla mia operazione sono stato per un mese tra la sedia a rotelle e il cuscino quello rotondo per sedersi. Chi è stato operato di fistole sa bene di cosa parlo. Arriviamo al dunque. Guardate quante carte tra cose di avvocati, denunce che ho. Questo signore è stato querelato e ridenunciato a sua volta dal mio avvocato, che io ho vinto la causa perché lui mi ha fatto quattro denunce senza avere uno straccio di prova. Quindi lui mi accusa, mi ha accusato senza prove. E naturalmente la denuncia l'hanno accettata anche senza prove. Quindi il mio avvocato mi aveva detto che potevo mettere in mezzo ai casini anche chi aveva accettato la denuncia. Non l'ho fatto. Ho fatto la querela e la diffida solo a chi mi ha fatto queste denunce. Che cosa ho fatto? Poi comunque la causa è vinta, adesso non vi sto a raccontare perché non farò nomi e cognomi delle persone coinvolte in questa cosa. Nemmeno ci interessa più di tanto. Ho fatto questa commedia proprio per, è stato un dovere proprio per liberarmi e sfogarmi anche, il teatro è anche un mezzo per sfogarsi e per chiarire le questioni, no? Io accetto, io la commedia che ho scritto e che ho dato la regia a Kevin Dominici, naturalmente è cambiata la storia. Più o meno la storia è sempre quella, però i nomi dei personaggi cambiano naturalmente perché non posso fare una commedia con i stessi nomi reali che furono. Quindi i nomi cambiano, però io sono anche contento e lo faccio volentieri. Dopo la commedia, se venite a vederla e volete sapere la storia raccontata da me, io con tranquillità ve la racconterò proprio al teatro perché io dopo fatta la commedia rimarrò lì. E quindi se qualcuno volesse sapere chi è questa persona che mi ha fatto queste denunce, lo dico senza problemi all'interno del teatro, naturalmente senza telecamere, farò i nomi e i cognomi giusto per un'informazione più corretta. Quindi c'è la commedia e poi dopo a chi lo vuole c'è anche la spiegazione da come nasce questa commedia. E niente, da stare a questa qua. Poi dopo comunque sono passati cinque anni e io ricevo ancora tutt'oggi da questo signore, chiamiamolo signore, da questo signore e dalla sua famiglia offese tutti i giorni quando passo vicino al luogo dove lavora, diciamo, e che ha fatto questo signore? In cinque anni, io penso che è stato lui, non so se è stato lui, potrebbe essere stato lui, in cinque anni mi hanno bucato le gomme della macchina sette volte. L'ultima volta, un mese fa, me le hanno bucate. Io adesso non posso nemmeno mettere la macchina vicino casa, perché sennò mi bucano le gomme. Questo signore naturalmente credo benissimo che si è accorto che io ho fatto questa commedia perché nella zona dove sto abbiamo messo questi manifesti, faccio rivedere il manifesto, è tutta pubblicità, eccolo qua, ok? Abbiamo messo questi manifesti e questo simpatico signore è già due volte che secondo me è lui, perché chi può essere che strappa un manifesto così innocuo? È lui secondo me che a due volte che strappa il manifesto nella via dove sta. Niente, volevo dire che dei manifesti ce ne abbiamo 250, quindi strappandone uno, cioè la commedia la faccio ugualmente, non è una questione dei manifesti. Il teatro già l'abbiamo preso e non vi dico nient'altro perché poi dopo diventa pure tanto lungo il video e già siamo a 8 minuti e passa. Intanto mi suona il telefono, un secondino finisco il video e niente, volevo dire le ultime cose su questa commedia. Un ringraziamento lo faccio personalmente a Kevin Dominici che è il regista che è molto bravo e fantastico. Poi abbiamo anche tantissimi attori bravissimi che non vi sto a elencare perché comunque sono 12 attori e anche io faccio parte del cast. Non faccio il protagonista ma il protagonista è Kevin Dominici. Io faccio un piccolo ruolo perché ho deciso di lasciare molto spazio a loro che sono attori giovani e bravi, sicuramente più bravi e più giovani di me. Niente, con questo vi faccio rivedere la locandina e mi faccio un altro po' di pubblicità. La commedia è questa. Ma che fantastica giornata verrà messa in scena sabato 6 dicembre 2014 alle ore 21 al Teatro dell'Applauso tratta da una storia vera, ma che fantastica giornata. Regia Kevin Dominici. Teatro dell'Applauso. Via dei Canneti 21, Ponte Lucano, Tivoli. Ingresso 5 euro. Venitela a vedere, io vi aspetto perché è una bellissima commedia e la storia è molto interessante. Ciao a tutti e a presto. Ciao.